Che succede? Cosa fai? Mi comporto bene. Viola, no! Non puoi! C'hai di allergica alle mandorle! Viola, sei pazza! Alzati! Vedi giù quella salsa, lo dico a Kevin! Sì! Ma dov'è la tragedia? La faccia le si gonfierà un pochino! Le si gonfierà un pochino e allora? Le si gonfierà un pochino? Si gonfierà come una mongolfiera! Meglio, corrisponderà alle altre parti del corpo! Viola, pensa a quello che stai facendo! Dalla, ragazza, si sposa domani! Rubi, da quando hai perso gli artigli? Da quando tu hai perso la testa? Viola, avanti! D'accordo, va bene, niente mandorle. Andiamo? Viola, credo che tu mi abbia spostato la vagina! Dov'è?